Le Marche sono la regione dove in percentuale si dona di più e questa tradizione va continuata e rafforzata, spiega l'assessore Lucchetti, con l'iniziativa Dona una nuova vita. Si prosegua su questa tradizione e si sviluppi ulteriormente. Noi abbiamo una tradizione fortissima, come detto, che è accompagnata anche dalla possibilità di avere delle strutture sanitarie che conseguentemente hanno preso coscienza di questo grande patrimonio e si sono organizzate sia per i trapianti, sia per le cure dialitiche, sia per le donazioni degli organi. Questa è un'iniziativa che è rivolta ai bambini delle scuole elementari, ma speriamo poi in proseguo del tempo di arrivare a scuole anche nei livelli superiori. Lucchetti ha anche sottolineato la sinergia molto importante tra le associazioni di donatori ADMO, AIDO, ADISCO e AVIS, che coordinate dall'ideatore del progetto di comunicazione Alessandro Fiori, hanno creato con la ditta Clementoni un puzzle del corpo umano che i bambini dovranno divertirsi a costruire. Presentiamo un puzzle fatto dalla Clementoni, un quaderno e un libricino piccolo dove dice cosa facciamo le associazioni di volontariato per la donazione, perché è stato visto ultimamente, soprattutto con la mia associazione Donatori Medollo Osseo, sono più donatori che escono dal registro che entrano. Purtroppo se non c'è questo ricambio è molto pericoloso perché i registri sia regionali che nazionali non si possono leggere più.